Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale KukumiVelux Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale KukumiVelux Oggi sono qui in compagnia di Fefo Lebonne Non saluti? Cazzo! Fai la risata? Che quello è il vero saluto? Perché state pronti ad ascoltare la risata di Relix? Rifalla per bene? Eh ma Leo adesso sto rubicando per la parte del primo Si aveva perso una GB prima, adesso comunque spaccheremo in cura sti pezzi di merda E ragazzi sono con Fefo appunto, mi ci giocavo da un sacco di tempo Penso che sono passati mesi l'ultima volta che ho finito con studio sul mio canale E siamo qui perché Fefo ha detto che mi farà vincere l'GB Non sapete che io ero me un personale non lo so pure quindi è giusto che... Non l'ho mai detto, sono stato obbligato, sto ricattando con foto compromettenti Foto compromettenti che pubblicherò ovviamente nella fanpage, passate nel link in descrizione Vai farlo uscire tutto insieme Comunque raga, prendi la bomba No andiamo in là, ma perché tu vai in via o vado in là? No ma che cazzo fai in là? Dici che stanno flancando? Senti guardami dietro Fai in mente che non sarai Aspetta un po', facciamolo No, ti brucia una Ok Oddio c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, fattolo, fattolo, fattolo Eh, lo faccio No Cazzo era non affianco all'altro Ma te vanno sotto? Parteggiava ira, la ira Larowage Ah, che falle questa Tuo cazzo di kid, bambino bastardo Kid Booning Cazzo scuoci nella tag Ne squioc Ne squioc Vorrà dire qualcosa Cosa? Guarda, gli vorrà dire qualcosa Guarda a B, guarda a B Vandiamolo B e B, guarda io B Vanno in B credo Ti stanno pushando Uno Uno Oh! Let's go Ah, bella vinca grande fevo questo si chiama giocare di team essere un team efficiente prova queste sono cose... sassa prova è una storia un po' è un po' difficile da raccontare allora io direi di andare in a la bomba la devi prendere tutta tu sei un portatore di ads invece vai a piazzarina piazza no anzi non piazzare perché se puoi morire una passarella mamma mia ha pisciato pipa mamma mia pipa non puoi capire che mi ho spaccato con le passere guarda guarda cosa stai facendo? è serito sopra il tetto a caso come se io potessi già essere là vabbè vabbè troppo inferiori vero pepo? ovvio ovviamente ovviamente ovvio ascolta vai in B come prima che ora gli faccio la sorpresa sti bastardi aspetta un po' che secondo me è la bandina no sempre B ora facciamo un gioco un gioco del silenzio cut cut mi ha pisciato l'altro eh la bomba è sempre in B se te la clacci eh ma stai scappando sei troppo passivo eh stanno tirando alfa tira una nada tira una nada ti hanno double teamato qua vabbè dai che ci fa passarelli io e tu che ho rando ti hanno proprio rotto il culo qua eh magari sapevano che eri qui quindi ti hanno preceduto è stato più intelligente non puoi dirvi mai nettamente superiore poi con quella tipa sopra il missile ha capito tutto dalla vita allora ascolta io metto la R ora perché questi fanno già troppo i simpaticoni e la gente simpatica non mi piace quindi la bomba bravo c'ho la amp raga guardate questa tecnica avanzata ok ho empato uno è dentro la casa porco giuda è uscito fuori c'è lì dietro c'è lì dietro c'è lì dietro ti double teama non lo sai no? eh sì ma guarda un po' fino da dietro ho tirato la amp l'ho empato e mi ha ucciso si è affacciato subito questi sono violenti proprio dobbiamo stare a fianco vedrai eh vedrai che ho ragione stiamo a fianco e li battiamo chi vuole teamwork teamwork e collaborazione avrei voluto dire in inglese questa parola però non la so non la so dire quindi mi parla pure in Italia sei sicuro si dica così? ascolta andiamo in A pusha Vodà pusha Vodà dimmi se vedi qualcuno avanza ok sono in A stanno girando in A no perché hai sparato? un in A un in A one shot scappando Leo tutti e due terzo piano uno anche l'altro anche l'altro spaccalo spaccalo no fefo stai gioccando devo dico eh molto male oh fefo morto raga arrivo Leo stanno mandando i vocali su whatsapp mentre facciamo le gb ecco perché stiamo prendendo 4 e due raga ecco il perché dai oh che sennò ci battono queste qua andiamo in A senti vado no vai in A vai in A che c'è uno cattivista no niente nessuno attenzione uno ho visto uno top glass sto morendo sono scappato vieni ma ci sei io questo questo è il telefono poi poi non mi devo incazzare se perdiamo non piazzare minchia fefo no cazzo raga ok raga da questo momento il microfono ha smesso di funzionare e non so se avete sentito quel rumore non so cosa sia però ho fatto sta che ha smesso di funzionare quindi ci sarà un comeback epico e si sentirà solo relix però cioè non potevo non portarvelo perché è stato qualcosa di epico appunto quindi raga scusatemi e gustatevi la voce di relix e il comeback scusatevi ma mio padre mi hanno dovuto chiamare adesso al telefono perché ovviamente non può beccare il momento migliore difendiamo l'obiettivo si 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 no in B in B in B preso uno è one shot un altro one shot no 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 adesso recuperiamo recuperiamo cambio squadre cerca i distruggi allora 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 cazzo metto il ball con le spoon andiamo in B andiamo B sono stunati gli ho stunati l'altro è sopra il cast vedo prepararsi alla prossima battaglia l'ho stunato due volte non credo dove cacchio fosse all'inja con l'Smg cambio squadre cerca i distruggi ok difendiamo l'obiettivo sono in B sono in B giriamo da loro spawn vieni si si vabbè la flinchiamo in ogni caso perché è tanto spettabile non ha senso non lasciare più corri non dare casamito non andare andiamo a flank da dovrebbero aver fatto la nostra stessa cosa però dal nostro spawn lo no non devi girarlo la cana nera sopra il glass bomba down ha giampato a tuo sinistra eh sta qua occhio è più verso il centro mappa stai attento bomba piazzata si è un pato a sinistra stai dietro stai seguendo aureo hai tirato lento appena tu hai tirato lento questo dia ho sentito che tu hai sparato lento da sotto si è affacciato un'altra bomba disinnescata bene prepararsi alla prossima battaglia si si eh ho visto ho visto hai fatto bene lui infatti l'ha giocata male eh poteva fare diversamente cerca i distruggi è la difesa è la difesa è stato quel fare io direi di andare in B come è solito non cambiamo difendiamo l'obiettivo va beh stai mid tu si si mi hanno usato anche a me eh per uno cecchino di epitazione è da sopra non ci allungiare c'è il cecchino col termico è flinchiato l'altro con la bomba solo per superare lasciare che ti sento ah volevo attraverso